Il cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, partiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana, traffico che in verità scorre in maniera regolare su tutta la rete stradale e autostradale della Toscana, sulla statale 67 Tosco-Romagnola, senso unico alternato e restringimento di carreggiata in località Anchetta nel comune di Chiesole. A Firenze intervento urgente in via Guidovanti per la rottura di una condotta fognaria, sono in corso i lavori di ripristino che si concluderanno entro martedì 5 gennaio. Si ricorda che dal 7 gennaio si aprirà una nuova fase per quanto riguarda l'organizzazione del trasporto pubblico in vista del rientro a scuola degli studenti, presto aggiornamenti sui canali social di Muoversi in Toscana. Si ricorda inoltre che il numero verde del TPL è 800 570 530 e per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!